Alla Cascina delle Rose si è appena conclusa l'Assemblea dei Soci della Confapi, la Confederazione Piccole e Medie Imprese. Siamo con il Presidente Dante Damiani, oggi padrone di casa, che lancia tra l'altro alla fine di questa Assemblea il momento numero due, ovvero un incontro con una personalità di spicco, ovvero Enzo Maria Lefevre Cervini. Siamo stati qui oggi per gli ospiti della Cascina delle Rose per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2022. Questa giornata è suddivisa in tre fasi ben distinte e precise. Questa fase iniziale che ha riguardato l'approvazione del bilancio, alla quale successiva sarà l'incontro con il dottor Enzo Maria Lefevre Cervini, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ariano Olivetti, docente presso l'Università di Buenos Aires per la governance del digitale. Ed è veramente una delle persone più importanti per quanto concerne la tematica che riguarda praticamente la digitalizzazione e l'utilizzo e l'uso dell'intelligenza artificiale e la sua normativa a livello europeo e mondiale. Ecco professore, in fase di presentazione il presidente della Confapi ha affermato che lei ha visitato più di 160 paesi. Ci faccia un podio, primo, secondo e terzo, oro, argento e bronzo, dei primi tre paesi che hanno assorbito maggiormente e con maggiore celerità questo processo di digitalizzazione. Tra i più importanti sono sicuramente Singapore, è uno dei paesi città-stato più avanzata al mondo nel processo di digitalizzazione. In Europa l'Estonia rileva essere uno dei grandi paesi, sebbene molto piccolo, che hanno portato avanti un processo di digitalizzazione ma molto legato al fatto che è una popolazione giovane, molto piccola e via dicendo. Altri paesi molto importanti in questo settore, sicuramente la Corea del Sud, che ha portato avanti un processo radicale di trasformazione e poi abbiamo i soliti noti rispetto ad alcune fasi, che sono il Giappone per esempio per quanto riguarda il sistema di trasporti, Israele per quanto riguarda l'innovazione e i sistemi di difesa, però detto questo io dico sempre che l'Italia non è tra gli ultimi, anzi ha moltissime peculiarità che dimostrano essere fondamentali nell'avanzamento dei servizi, ha delle imprese che si occupano di agribusiness estremamente importanti, che fanno paro con Israele ma che aiutano tantissimo il nostro mondo imprenditoriale agricolo e abbiamo anche dei sistemi tecnologici che aiutano le imprese a fare sistema che sono incredibili e unici nel mondo.